Buongiorno. Buongiorno, prego. C'era una prenotazione per due stanze, anche amato dalla caserma. Mi chiedo scusa, quale nome è stata fatta la prenotazione? A nome di Pisicchio. Cacaccio. Pisicchio, eh? Cacaccio. Cacaccio. Un attimo solo che controllo, eh? Grazie. Pisicchio e cacaccio. Perfetto, sì. Dunque, voi avevate inizialmente una prenotazione per due suite. Sì, sono le nostre camere più belle, quelle con vista mare. Però purtroppo mi dispiace, non sono disponibili. Oh, come sarebbe? No, state tranquilli, le camere ci sono, ce ne sono due, tutto a posto. L'unica cosa è che avete il bagno in comune. Questo è l'unico particolare. C'è un problema? Tiene. Non riesco. No, non riesco. Vorremmo sapere, ma il comune è distante di qua? No, non lo sapete. Fino dalla macchina, anche la notte, le pantofole, come mette in marco, guarda. Buongiorno.